Voltiamo Pagita. Un esito prevedibile. Secondo il sindaco di Clusone, Guido Giudici, quello delle prime aste per l'accessione dell'area di proprietà comunale nell'ambito del piano di lottizzazione Clusonia, andate entrambe deserte. Ieri ai nostri microfoni, il capogruppo di minoranza, Carlo Caffi, aveva parlato di un bilancio 2009 che rischia di andare in rosso. Sentiamo cosa risponde il primo cittadino. A rischio vuol dire che basta leggerlo il bilancio, quindi non è molto a rischio, anche perché la cosa interessante di questa lottizzazione era soprattutto la monetizzazione dell'area standard, che riguarda quei circa 900 mila euro che sono alla base sia dell'operazione che è in corso della giuola Pineta, per la riqualificazione dei percorsi della Pineta, sia per lo schirole, per la ciclovia, sia per quanto riguarda l'acquisto dei terreni su cui sorgerà il palazzo dello sport, che attualmente viene utilizzato dal golf in campo prova. Quindi quella era la parte interessante di questa, che riguarda la convenzione, cioè la convenzione fra i lottizzanti, qui c'è anche il comune, e il comune stesso. Questa era la parte interessante a bilancio. Dall'altra parte sulla vendita dei terreni è prevista una parte l'edilizia economica popolare che è stata assegnata, quindi quella è andata. L'altra, la convenzione, doveva garantire l'edificabilità reale, cioè perché io acquisto un terreno su cui c'ho un diritto di costruire, un conto è un diritto formale senza convenzione, un conto è un diritto sostanziale con la convenzione. Quindi chiaramente chi acquista, acquistando con la convenzione, ha una certezza immediatamente eseguibile, senza convenzione è piuttosto aleatorio, e quindi era prevedibile che le prime aste andassero deserte. La prima è andata deserta, la seconda è andata deserta, anche se nel frattempo noi contavamo che venisse risolta la motivazione qual è, non è che non esistono compratori, è perché, torno a dire, con una convenzione approvata un conto è reale, altrimenti è solo ipotetico. Perché non è stata firmata la convenzione dal notaio? Perché si è scoperto che su un lottizzante c'è un procedimento di tutela, quindi a giorni il giudice deve assegnare la destinazione di questa tutela e allora il problema si risolve. È un problema giuridico contingente, non è perché non esistono i compratori. Non si poteva aspettare la convenzione prima di fare l'asta? Anche questo è vero, anche se l'impressione, ho detto disposizione di farlo lo stesso, perché il suggerimento dell'ospedale convenzione c'era stato, era per capire un attimino come si muoveva il mercato e per capire come si muovevano le immobiliari sul mercato, quindi è stato un atto esplorativo. Altro rischio parentato dalla minoranza è che non ci siano le risorse per pagare le rate d'acquisto dell'ospedale San Biagio. Beh, se avesse un po' di memoria più lunga si sarebbe ricordato che le rate per pagare l'ospedale San Biagio, quindi due rate provenienti da lì sono state messe, quindi appostate nel bilancio solo quest'anno, perché gli altri anni era previsto il pagamento non con questi mezzi, quindi verranno eventualmente utilizzati gli altri mezzi, che erano a Palazzini di Piazza Sant'Anna, ai terreni di Via Pozzo.